Certo la speranza è una virtù, una virtù difficile. La croce di Cristo è una vittoria o è uno scacco? C'è una tentazione di pensare che tutti gli sforzi sono inutili, però ciò che possiamo fare è solamente dare segni di buona volontà. E Dio farà il resto. Ecco, ma quindi lei ritiene la non violenza un mezzo tuttora efficace per combattere contro le ingiustizie e gli squilibri della società attuale? Dico il solo mezzo, perché tutti gli altri cercando di opporsi al male raddoppiano il male. Se opponi il male al male non ripari il male, bensì lo raddoppi. E così non solo ai conflitti la non violenza è una risposta, ma anche a tutti i problemi. Al problema economico, per esempio, che cosa è l'economia non violenta? Il fatto di non sfruttare nessuno e di non permettere a nessuno di sfruttarci. Come fate questo nell'insieme dell'economia moderna?